Tutti vogliono la tangenziale Nord. C'è voluto un mese di consultazione a Vicenza tra il sindaco e i 28 soggetti rappresentativi tra partiti e associazioni di categoria sindacati e movimenti nati attorno alla costruzione del Dalmolin per focalizzare assieme quali opere compensative chiedere per la città in cambio dell'ospitalità della nuova base militare americana. Alla fine il risultato va moltiplicato per 5 e al primo posto c'è proprio il completamento della grande viabilità di scorrimento nell'area Nord del capoluogo, opera del resto già da anni additata come irrinunciabile di cui Vicenza è mancante. Altra questione sul piatto, la parte attorno allo stesso Dalmolin, che alcuni vorrebbero convertita a nuovo aeroporto, altri a Deliporto, altri a metropolitana regionale di superficie. La questione resta tuttora aperta anche dopo le consultazioni, anche se continua a registrare consensi l'idea di farne parco urbano o bosco cittadino. Terza richiesta è la realizzazione di un polo nazionale della meccatronica in modo da garantire all'Università Vicentina un ruolo da primo piano nella ricerca nazionale. Altro interesse anche per una mobilità cittadina pubblica sostenibile attraverso una linea di filobus che dovrebbe modernizzare gli spostamenti da un capo all'altro a Vicenza. Ultimo ma non ultimo, a dei cinque punti, l'esigenza trasversale di avere informazioni costanti e trasparenti riguardo allo stato dei lavori dentro al Dalmolin, sulle cui garanzie ancora la città, per bocca dei suoi rappresentanti, sembra continuare ad avere forti perplessità. A chiamarsi fuori dal coro di consultazione i gruppi consigliari No Dalmolin e lo stesso movimento No Dalmolin, che continuano a combattere la loro battaglia ormai personale contro la detestata Ederle II.